secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie teoricamente ragazzi teoricamente poi ti diamo il benvenuto concetta ti diamo il benvenuto concetta ecco qua da qua devo partire cazzo mi si è buggato il personaggio guys eh? che cazzo ho sentito? che era? che era? che cazzo era? che è? ok ragazzi mi piace ribazzare un pochettino un pochettino la gamma così si vedono anche le corna che dite? è un po' più figo così che si vedono pure un po' le corna no? ce sta? voglio io farò di tutto va bene? farò di tutto per ok vuoi help? ciao i portray number two farò di tutto ok? ok un secondo non ho fatto una cosa però ok ok ho acceso ho acceso la gli occhi alla zucca no? non si vede? ok ma come stai bene questa sera ti farei fare anche che è il bilancio aziendale che cazzo è Trizia? Trizia! buonasera G che devo fare ragazzi? mi serve una mano dalla regia una mano dalla regia perché non trovo niente sì è vero è vero è vero sì finalmente è Osimen sì cazzo sì ragazzi poi l'hanno fatto tutti quanti si sono messi tutti ad abbracciare Osimen si sono messi ad abbracciare tutti quanti Osimen ragazzi tutti quanti che lo abbracciarono quel ragazzo ha così sofferto nella sua vita e poi l'hanno abbracciato tutti quanti sono messi a me io qua stiamo è mi ha fatto emozionare perché lo sai no? No, lo sai cosa hai pensato di Ossimer che fino a ora non stavo lasciando niente E tutti quanti lo trattavano male perché non serviva più Craccato Non ho corazze Ancora io Un'altra a terra, un'altra a terra Vi ho lasciato solo un'altra Non li vedo, ma che è? Raga, li sento, dove stanno? Pobre sta Ma c'era uno, ragazzi